Cinque presenze in sei edizioni al Festival di Sanremo, una sorta di piccolo primato, quello che può vantare Arisa. Il debutto nel 2009 con Sincerità, che vince tra le nuove proposte, si aggiudica il premio della critica. Nel 2010 il passaggio tra i big con Malamore No. Nel 2011 sale sul palco dell'Ariston come ospite insieme a Max Pezzali nella serata dedicata ai 150 anni dell'Unità d'Italia. Il 2012, di nuovo in gara con La Notte, le regala il secondo posto. Dopo la pausa del 2013 la cantante di Origini Lucane torna a Sanremo con lentamente il primo che passa è Controvento. Mi sento agitata ed emozionata, racconta. Stavolta è diverso dal passato perché è la prima volta che vado al Festival con le spalle non coperte. Gli anni scorsi non avevo esperienza, ero un'ingenuota, adesso ho 31 anni e su quel palco sale una donna. Stavolta la responsabilità è tutta mia. L'emozione c'è ma c'è anche la voglia di farcela, non tanto di vincere quanto di dare una chance al mio nuovo progetto. Anche perché per la vittoria risa punta su Noemi, che definisce un vero talento. Ma cosa farà da grande? Spero la mamma, dichiara, ma non abbandonerò la musica. Per me è come una medicina.